Il Natale è una festa d'amore, di pace, per tutti i bambini. E che cosa ho fatto io? Voi vi direte che c'è dentro in questa busta? Ci stanno delle... E salve carissimi, io sono Francesco Angerillo e benvenuti in questo nuovo video cacciaonastico. Da come avete capito dall'intro e dal titolo del video, oggi vi devo far vedere che cosa c'è dentro questa busta. Ebbene sì, dentro questa busta ci stanno delle palline di Natale appena comprate. E le ho comprate da quei negozietti... A caso. E le ho pagate un euro, ma non è ancora finita qui. Ho comprato persino il punteruolo. Prima di vedere questo video vi invito a lasciarmi tantissimi bei like. Devo fare l'albero e vi porto un nuovo video domani dove ho fatto un albero di Natale che lo devo piazzare. Lo sai dove lo devo piazzare? Siete pronti? Uno, due... Qui. Levo il cubo e il cesto e ci metto l'albero di Natale. E mi raccomando, se questo video raggiunge tantissimi bei like farò il post e persino pubblicherò un video. Promesso. E allora passiamo con gli addobbi Natalizi. Allora cominciamo con il punteruolo. Olè! Ed è questo qui. Color oro. Con raffigurato queste stelle. In stile brillantinato. È bello oro. Un oro giallo. Perché questo punteruolo... Lo sai quanto l'ho pagato? Un euro. Perché questo punteruolo... È di 70 anni. È vecchiotto e vintage questo punteruolo. Che voi non avete mai visto. E adesso ragazzi passiamo con le palline di Natale. Siete pronti? Abbiamo quelle dorate, quelle classiche, le dorate e basta. E questa qui ragazzi, non vi ho fatto vedere questa che cos'è. Si tratta di una piccola, piccolissima pera a pallina. Allora ragazzi, vi faccio vedere gli addobbi Natalizi. Allora, questa è una pera a pallina. Poi ho comprato questo tamburo a palla di Natale. E andiamo con le palline. Abbiamo qua Magma mia. Vede questo quanto è bello? Si tratta di... Tenete mai presentato che quando Mr. Bean va dalla porta e vidono i bambini con in mano i foglietti che cantano le canzoni di Natale. E questo è uno dei bambini di Natale. Assomiglia a Anica di Pippi Calzelunghe dal viso. Identico, eh. E me lo mettono davvero lo stesso perché mi manca un bambino del coro con la candelina in mano. Eh, perché quello mi assomiglia io da piccolo. C'avevo il caschetto. Perché questa o assomiglia a Raffaella Carrà o Caterina Caselli. Poi ci abbiamo due stelle. Allora abbiamo questa qui. Una stella fatta di peluche. Del mio colore preferito rosso. Che è una cosa bianca me la tolgo. Ecco qua. E ci sono raffigurati degli spiralli. Poi ci abbiamo un'altra stella natalizia di colore grigia. Sembra la stella che ha il cugino di campagna che ha qui. È proprio la stella del cugino di campagna. Ma manca il coso per appenderlo. Tanto pazienza. Non so dove lo metto che decido io. Abbiamo uno stivale di Babbo Natale di colore giallo. Perché io c'ho rosso, blu e giallo. Questo però è fatto in stile plastica. Poi ci abbiamo... Partiamo ora dal presupposto che farò vedere. Al posto delle palline di Natale c'è questo qui. Ecco qui il pezzo mancato. Si tratta di un dino a soprammobile. È che prima... Quando l'ho comprato rimanca agli occhi. Ma grazie a me li ho fatti. Vi piace questo dino? E questo è la stella. È un tipico... La stella di Natale è un tipico fiore che voi non l'avete mai visto. È probabilmente bellissimo. E voglio metterlo vicino il pupazzo di neve. Che è bellissimo. Guardate ragazzi, è bellissimo. Poi inizierò con il roll a papier. Ne abbiamo già due ma li devo creare dopo un video. Anzi, perché sono stango li creerò domani o non lo so. Prima di far mostrarvi gli altri palline natalizie mi sono comprato dai cinesi questi gnomi, babbi, anzi questi sono gli gnomi Babbo Natale. E probabilmente mi è appena venuta una grossa idea geniale. Io regalo questi due gnomi bianchi a mia madre e i rossi sono i miei. Perché il rosso è il mio colore preferito. Perché il bianco è metà maschio e metà femmina. Così. Questo è un pupazzo di neve a peluche. E probabilmente ha questa campanella che suona. Diciamo è un pupazzetto di neve a pupazzo. Che ha questa bella campanellina che suona. Aspetta, prendere tutti i cimei natalizi perché là sta il punto di ruolo. Aspetta, li metto qua a terra. Oltre con questi cimei gli ho trovato il cangetto perché magari si appende qua o non lo so. Poi abbiamo questo gufetto di legno che questo suona. È un gufetto di legno con la campanellina che suona. Ha fatto il legno con un bottone. Poi abbiamo questo ragazzi... Aspetta un attimo. Devo levare. C'è una pallina rossa incastrata. Questo ragazzi è un cigno. Probabilmente ragazzi... Il colore lo vedo. Io ho un cigno classico bianco. Allora ragazzi... Un'ideona gelò. Allora ragazzi... Probabilmente questo cigno rosa glitterato ce lo regalo a mia madre. Appena regalato... Aspetta, scusatemi ragazzi. Appena regalato il cigno a mia madre mi ha dato un bacio sulla guancia perché io faccio molti regali a mia madre. E vedo a Natale che cosa li regalo. Adesso passiamo con le palline. Abbiamo questo babbo Natale. Questo è un babbo Natale a pallina. Ma c'è la cesta persino. Una cesta. E che cosa ci andremo a fare? Possiamo mettere così magari. Vedete come? Ah, che ve ne pare ragazzi? Vi piaccia? Oppure lo rimaniamo così e la cesta sarà utile a babbo Natale. Oppure se trovo una pallina a forma di renna, qualcosa che sia, possiamo fare a modo mio che la mettiamo dentro la cesta in modo tale che è bellissimo. Questa è la cesta dove mi metti la pallina di babbo Natale è un babbo Natale bello fatto con la faccia di legno. Poi abbiamo uno schiaccianoci. Poi abbiamo uno schiaccianoci dorato che si apre e si chiude. Poi abbiamo una mela. Ah, qua abbiamo, non è ancora fin da qui perché sta una pera, ma la trovo la pera. Aspetta, c'è un'altra mela. Una mela morbida, questa è diversa e questa è di plastica. E c'è la pera, c'è un'altra pera però è di colore beige e arancione. La trovo. Ragazzi, ho trovato un'altra mela, è di colore gialla. Quindi allora abbiamo cinque frutti a pallina di Natale. E andiamo col prossimo addobbo. Poi abbiamo un classico Santa Claus a pallina di Natale perché è diverso dagli altri perché ho tre babbi Natali a pallina. Invece questo qui ci saluta e lo sai dove lo voglio mettere? Lo voglio mettere dal lato che mi vede mentre registro i video. È bellissimo, eh? Poi abbiamo quattro campanelline. Allora, partiamo con la prima. Questa è una campanellina ancora figurata, un pupazzo di neve che è un po' bellissima, che probabilmente costava due euro. E probabilmente è bella e suona pure. Aspetta, va suonare? Aspetta. È bellissimo. Questa è una bella campanellina. Poi abbiamo la seconda, è una campanella con la neve un po' a fantasia che non fai. Dlin, 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 faccio per finta. Dlin, 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 campanellina. Prima di andare con le altre campanelline, questo gufetto, sono andata alle clerche e me l'hanno dato in omaggio. Poi abbiamo questa qui, è una candela. Spero che vi piaccia. C'è una candela con su scritto buone feste. Ed è bellissima. Probabilmente, aspetta, la ho, la devo metterla incastrata perché sta una cosa, quei ricciolotti ferrati. Ecco qui, buone feste. La fiacola sta male perché la candela buone feste la metterò vicino il punto di ruolo come Christmas Carol. Poi abbiamo il candelaro di Babbo Natale. Che probabilmente questa è una pallina di Natale. Il candelaro di Babbo Natale. Poi abbiamo due uccellini. Ecco, questa è la pera. È una pera diversa di colore gialla. Mentre quella di prima è verde. È di verde e gialla, verde e gialla. Abbiamo ora cinque frutti a pallina di Natale perché non è finita qui perché c'ho cinque mele. E ne raddoppiamo. Ne sono in totale undici, sette. Poi ci abbiamo... Raga, questo è bellissimo! Questa è una noce! E c'è Gesù, bambino! Questo è bellissimo, ragazzi. Io, al posto... Questo è da pendere nell'albero. Io, ragazzi, lo sai dove lo metto Gesù, bambino? Alla punta, che questa è bella. La noce dorata con Gesù, bambino. È la mia preferita. E ditemi, qual è la vostra preferita? Poi ci abbiamo... Questo è un uccello. Uccello a pallina di Natale. E noi ho un altro. Dove è l'altro uccello a pallina di Natale? Aspetta lo trovo. Aspetta. Tutte queste palline non mi fanno trovare l'uccello. Non lo trovo. Durante ve lo trovo, vi chiamano... Questo è un uccellino blu che si appende nell'albero. Poi abbiamo... Poi abbiamo... Andiamo con l'angolo babbo Natale. Questo è un babbo Natale sopra... Pagliettato, che ne so, probabilmente è un babbo Natale sopra una pallina di carta polistilolo. Poi abbiamo Ginger Brian Man, ovvero biscotto di marzapane, fatto in tessuto come la barra di Halloween, fatta di pupazzo plastica. Questa è fatta di pupazzo plastica, con i bottoni e da appendere nell'albero. Poi abbiamo... Andiamo con l'angolo schiaccianoci. Ci abbiamo... Prima di fargli vedere gli schiaccianoci, c'è questa scritta auguri. Aspetta. Questa scritta auguri. E andiamo con i due schiaccianoci. Sono delle femmine. E prima di fargli vedere, abbiamo il secondo uccello. Dorato, eh. Andiamo con gli schiaccianoci. Questi qui sono... Penultimi addobbi, andiamo con gli schiaccianoci, che queste sono due femminucce. Anzi, perché le femminucce potrebbero servire, perché ho solo maschi, ma meno male, perché... Questa è una femmina, è una messicana che suona le maracas. Mentre questa è una che ha in mano lo champagne. Ragazzi, io sono veramente... Ragazzi, mi sono preso lo spavento, perché la sciarpa coprirà lo champagne. Fai vedere di meglio. Eccolo qui. Questa che ha in mano lo champagne e questa che ha in mano i maracas. Poi abbiamo due campanelline ad addobbo pallina. Con vere campanelline da sotto. Questa senza fiocco e questa con il fiocco. Poi abbiamo, per concludere ragazzi, perché c'è mia madre che mi sta chiamando e devo andare a letto. Poi abbiamo il classico appendialbero con una pallina a strisce. Poi abbiamo piccole palline colorate morbidose, di colore... Questa è oro, bianca rossa. Palline vintage. Una grossa verde e una gialla. Ultimi addobbi. Questa è penultima. Abbiamo una pallina blu. Poi abbiamo... Un putto. E per concludere, una pallina natalizia. Anzi, ne ho prese due in uno. Aspetta. Questa è una pallina natalizia fatta di cucitura. Mentre questo è un appendialbero. Un'altra pallina rossa. Questa è un po' lunga. Questo è un appendialbero con una pinna da sopra. Bene ragazzi, il video di oggi si conclude qui. Questi sono i miei acquisti che ho fatto di queste belle palline di Natale. E vi porterò domani con il video mentre alessisco il mio albero natalizio. Beh, durante mentre io sto mettendo a posto le palline. Noi, come sempre, ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao carissimi. Aspetta, prima di dire ciao ciao carissimi, devo mettere anche queste ultime palline a posto. Eccole qui. Ditemi, qual è la vostra preferita? Ciao ciao carissimi.